Festa Senegalese qui in Valtellina, a Morbegno, cucina e anche musica. Com'è stata la festa? Cosa si è fatto? Bellissima, è stata una festa annuale che facciamo ogni anno a Morbegno. E balla, musica, tecnica e tipi di nostri piatti. E quali piatti? Stasera abbiamo preparato crustus, riso con pesce e riso bianco da parte con sugo di curry. Siamo preparati per poi il nostro supo, bibiti fatti da noi e siamo preparati. Quindi sono piatti tipici senegalesi e bevande tipiche senegalesi. Senegalesi. Sì, la musica invece? La musica, gembe, questi tamburi sono di gembe che tutti conoscono e la nostra musica facciamo a casa. Sì, quali brani? I brani sono tanti. Mi abitanti, mi forcolo, si chiama forcolo a ballà. Per lo più percussioni, no? Sì. Sì, va bene. Grazie mille e alla prossima festa del 2015. 2015, sì. Va bene.